Senti, ma... tu ci vedi anche qui dentro? Ti hai separato, vero? Dilo, mi devi 2.500 euro. Robo che ho dato, 245 euro e siamo pari. Cosa vuole? 1.400 euro! Lettino, via! Rosio! Lasciami la donna! Non ci si approfittate perché siamo donne! Questi! Lei è Norma Pecche, la madre di Mirko, il bandito. Prima di morire mi ha detto che in questa casa c'è un tesoro nascosto in una sedia. In una sedia? Hanno trovato in salotto otto sedie e un tavolo e non sono riusciti a vendere tutte insieme. E lei per caso ha comprato una sedia con dietro un elefante? Non è che hai mai visto questa sedia tu? Voglio vedere cosa c'è dentro. Dov'è la sedia? Vorremmo comprare la sedia. Pagare? Quanto pagare? 50 euro. Via! Eh? Eh? 100. Vuoi niente? 300? Raggi ride! Cazzo ride! Notizie dal mondo di Hollywood. Kevin Fidge, presidente della produzione Marvel Studios, ha annunciato che la direzione presa dagli studios è quella di sviluppare un film dedicato a una delle supereroine. Nello specifico, Fidge ha indicato l'eventualità di dedicare un film alla storia delle origini di Captain Marvel. Alcuni rumor, inoltre, affermano che Captain Marvel sarà introdotta in una pellicola entro il 2016. Addirittura si dice che si tratti di The Avengers Age of Ultron. Mmm... Mi raccomando, voi mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook, antiprima cinema. E noi ci rivediamo al prossimo video. No! Solti. E noi ci rivediamo.